Musica Sabato prossimo 15 giugno, l'ultimo viaggio per la Littorina nel tratto paterno Catania. La linea verrà infatti bloccata per permettere ai lavori della metropolitana di andare avanti. Sicilia Antica interviene sull'argomento. Daniele Capuana, candidato sindaco a Motta alle recenti amministrative, giunto terzo, commenta il voto Mi sento responsabile nei confronti di chi mi ha votato. L'affare degli imballaggi ortofrutticoli a Vittoria, gestito dalla clan mafioso dei Greco, scoperto dai carabinieri di Raguse e dai finanzieri di Catania, è emerso anche un legame con i Santa Paola Ercolano di Catania, eseguiti stamattina a 16 arresti. 19 anni e Manette appaternò con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno sequestrato 150 grammi di marijuana. Ordine di carcerazione eseguito dalla polizia di Adrano per un 48enne destinatario di una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi per traffico di sostanze stupefacenti. Operazione antidroga della polizia nella rione catanese San Berillo. Il cane Ares, grazie al suo fiuto, fa recuperare un notevole quantitativo di droga nascosta tra le fessure delle case abbandonate. Il deputato nazionale paternese Francesco Ciancitto scrive una nota sulla tendopoli di Ciappe Bianche a Paternò. Fate presso a reperire all'oggi, la nuova stagione agrumaria non è lontana, scrive. La grave crisi idrica che ha colpito Magnace, il sindaco Franco Parasiliti Paracello lancia un nuovo appello alle istituzioni regionali per affrontare il problema. Scatta domenica mattina, 16 giugno a Catania, il piano di pedonalizzazione della piazza Federico II di Svevia e delle zone circostanti il Castellursino, voluto dalla giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino. Due aule per un collegio del Madagascar, grazie a una raccolta fondi avviata durante i concerti dell'orchestra giovanile Falcone Borsellino, le aule intitolate alla compianta Marinella Milazzo. Ben trovati alla nuova edizione di Ciac News, telegiornale di Ciac Telesud. Sabato prossimo, 15 giugno, l'ultimo viaggio per la Littorina nel tratto Catania-Paternò. La linea verrà infatti bloccata per permettere ai lavori della metropolitana di andare avanti. Sicilia Antica interviene sull'argomento. Sentiamo. Sabato, l'ultimo viaggio della Littorina nel tratto Paternò-Catania. Dopo decenni di viaggi, migliaia e migliaia di viaggiatori, intere generazioni che si sono spostate grazie al treno della FCE, sabato 15 giugno è il giorno dell'addio. Come annunciato dai vertici della Ferrovia Circo Metnea nei giorni scorsi, per permettere ai lavori di realizzazione della tratta metropolitana Catania-Paternò, la linea va fermata. Un addio con più di una lacrima che porta via con sé infiniti ricordi. Per molti dell'età più bella, quella dell'adolescenza e della giovinezza, con la Littorina utilizzata come mezzo di trasporto per andare a scuola, all'università, ma anche al lavoro. Cosa ne sarà della Littorina? Se lo chiedono oggi i volontari dell'Associazione Sicilia Antica di Paternò con il presidente Giuseppe Scandurra che in una lunga nota evidenzia Sicilia Antica auspica che non siano previste ulteriori amputazioni del tracciato ultracentenario e che anzi quella che a tutti gli effetti è una ferrovia storica possa essere rivalutata anche in prospettiva turistica. Sarebbe opportuno, dice ancora Scandurra, progettare corse nei giorni domenicali e festivi, cosa attualmente non prevista, avvalendosi di bussa nei tratti soppressi. Infine, andando dismessi numerosi caselli, anche per evitarne il degrado, Sicilia Antica si propone come comodatario di alcuni di essi nei comuni dove è presente lungo il tracciato Catania, Missal Bianco, Belpasso, Paternò, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto, Randazzo, Castiglione, Lingua Glossa, Mascaligiarra e Riposto da destinare a sede sociale e attività culturali. E in vista dell'ultima corsa, Sicilia Antica sta organizzando per sabato 15 giugno un viaggio che serve anche alla conoscenza del territorio. Si partirà dalle ore 15 dalla stazione Borgo a Catania con ritorno previsto per le ore 17. Parliamo adesso di politica. Daniele Capuana, candidato sindaco a Motta Sant'Anastasia, nelle recenti elezioni amministrative è arrivato alle spalle di Bellia e Gulisano, suoi rivali nella corsa alla sindacatura nel comune normanno. Ai nostri microfoni ha commentato il verdetto del voto. Commentiamo l'esito delle elezioni a Motta Sant'Anastasia, sia quelle amministrative che quelle europee, in compagnia di uno dei candidati a sindaco di questa tornata elettorale, Daniele Capuana. Ben trovato, commentiamo l'esito di queste elezioni. C'è stata la vittoria di Antonio Bellia, seguito da Nino Gulisano e poi da lei. Come commenta l'esito di queste elezioni? Faccio gli auguri alla nuova amministrazione, anche se già sappiamo che non cambierà assolutamente nulla. Gli elettori ci hanno assegnato il 25% dei consensi, quasi 1700 voti, quindi mi sento la responsabilità del consenso ricevuto da tantissimi Mottesi. Ho ricevuto anche centinaia e centinaia di consensi che hanno votato solo Capuana sindaco, quindi per questo ringrazio tutti. Facendo i conti, il 25% del nostro, il 35% della seconda opposizione, arriviamo al 60% di disponibilità e di percentuale di coloro che potrebbero fare opposizione anche fuori da banchi del Consiglio Comunale. Noi ovviamente vigileremo sulle attività che farà l'amministrazione, non disperderemo il nostro patrimonio umano, elettorale, politico, che abbiamo recuperato anche in questa tornata elettorale con un programma che era vero, fattivo per i bisogni che hanno a Motto Sant'Anastasia e quindi apriremo un'associazione, ci dedicheremo anche ad attività di volontariato, di politica, anzi invito ai tantissimi giovani che vorranno fare attività politica ad avvicinarsi alla nostra associazione perché da qui inizieremo il lavoro per le prossime amministrative. Quindi su questo già ci siamo, lavoriamo e non dimenticherò tutto quello che hanno fatto i Mottesi per me e rimango sempre a disposizione di Motto Sant'Anastasia e dei Mottesi. Lei si è impegnato per quanto riguarda le elezioni comunali ma anche per le europee ha sostenuto la candidatura di Marco Falcone. In questo senso che risultati ha ottenuto e come proseguirà il suo impegno in tal senso? Abbiamo dimostrato che la prima lista della coalizione è Forza Italia, quindi dopo Fratelli Italia e dopo la Lega e soprattutto che Marco Falcone, il candidato siciliano all'europea a Motto Sant'Anastasia è stato il più votato dei Mottesi. Quindi questo veramente mi dà tanta speranza. Marco Falcone verrà a festeggiare la sua elezione a Motto Sant'Anastasia e ringraziare quanti lo avranno anche aiutato ma soprattutto, ripeto, dovremmo realizzare questo presidio di legalità, questa possibilità di dare un punto di ascolto ai Mottesi costruendo questa associazione dove, perché no, anche la disponibilità dell'onorevole Falcone al Parlamento europeo sarà importante per realizzare progetti su Motto Sant'Anastasia. E a margine dell'intervista che abbiamo realizzato con Daniele Capuana un ulteriore messaggio che abbiamo ricevuto che recita «Ciò che mi ha maggiormente ferito, scrive Daniele Capuana, sono state le azioni di bullismo politico nei miei confronti ad opera dei miei avversari durante tutta la campagna elettorale. Ho cercato, prosegue il candidato sindaco di Motto Sant'Anastasia, nonostante tutto, di puntare sulle proposte perché comunque il mio unico interesse resta il bene di Motta. Evidentemente si è pensato di battermi usando altri strumenti». Passiamo adesso alla cronaca, l'affare degli imballaggi ortofrutticoli a vittoria gestito dal clan mafioso dei Greco scoperto dai carabinieri di Ragusa e dai finanzieri di Catania. È emerso anche un legame con la famiglia dei Santa Paola Ercolano di Catania eseguiti stamattina 16 arresti. Sentiamone di più. «Il metodo mafioso utilizzato per influenzare e condizionare la libera concorrenza nel settore degli imballaggi per prodotti ortofrutticoli particolarmente attiva a vittoria nel Ragusano, attività gestita dalla famiglia Greco, è quanto emerso dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania sulle indagini eseguite tra il 2016 e il 2023 dai carabinieri di Ragusa e dalla Guardia di Finanza di Catania che ha portato questa mattina all'arresto di 16 persone. A capo della COSCA ci sarebbe Emanuele Elio Greco che nonostante il sequestro della sua azienda durante il periodo in cui era recluso in carcere prima e ai domiciliari poi avrebbe continuato a gestire gli affari tramite un uomo fidato, i figli e altri imprenditori. Secondo quanto emerso dalle investigazioni il gruppo criminale avvalendosi della forza di intimidazione avrebbe perpetrato una serie indeterminata di delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale e il patrimonio e acquisito in modo diretto e indiretto la gestione di varie attività economiche con particolare riferimento al settore degli imballaggi estendendo il suo potere mafioso e il controllo territoriale. Sarebbero infatti emersi dei collegamenti con altri gruppi mafiosi inclusi i clan Santa Paola Ercolano di Catania, Nardo di Lentini e Rinzivillo di Gela. 19enne in manette a Paternò per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno sequestrato 150 grammi di marijuana il servizio. Servizio antidroga a Paternò da parte dei carabinieri del nucleo operativa radio mobile della compagnia. L'attività ha portato all'arresto di un 19enne con precedenti di polizia arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'azione è scattata intorno alle 14 di ieri con la gazzella dei carabinieri che ha notato il 19enne mentre attraversava a bordo del suo scooter via Vittorio Emanuele. Trattandosi di un avvolto già noto alle forze dell'ordine, i carabinieri, senza destare troppi sospetti, hanno iniziato a seguirlo osservando i suoi movimenti. È stato così che il giovane, non accorgendosi di nulla, è arrivato fino ad una casa singola posta in una traversa di via Vittorio Emanuele. I carabinieri hanno notato che la ragazza ha cominciato a guardarsi intorno come se volesse essere sicuro che nessuno lo stesse osservando. È stato a questo punto che i militari dell'arma hanno deciso di controllarlo. Fermato e perquisito, nella tasca dei suoi pantaloni sono state trovate 20 dosi di marijuana del peso complessivo di quasi 50 grammi e ancora 50 euro in contanti con banconote di piccolo taglio e una chiave. Il riferimento alla chiave il 19enne ha tentato di minimizzarne l'importanza, cambiando argomento. È bastato questo per insospettire ulteriormente i carabinieri che hanno deciso di verificare se quella chiave potesse aprire la casa davanti alla quale il presunto pusher si era fermato. Ed i sospetti dei carabinieri si sono dimostrati fondati. Dentro quella casa, nascosta in un vano che conteneva una cisterna d'acqua, i carabinieri hanno trovato una scatola di scarpe con all'interno 55 dosi di marijuana del peso complessivo di quasi 100 grammi, oltre a materiale per confezionarla. Il presunto pusher è stato così arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato. Ci spostiamo adesso ad Adrano, dove la polizia ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 48enne. Dovrà scontare 3 anni e 6 mesi per traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno eseguito l'ordine di carcerazione per una adranita di 48 anni che a seguito di una sentenza divenuta definitiva dovrà espiare una pena residua di 3 anni e 6 mesi per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, nonché del reato continuato e in concorso di detenzione spaccio di stupefacenti. A renderlo noto un comunicato della questura di Catania. L'uomo è un volto noto alle forze dell'ordine perché è già gravato da molteplici precedenti di polizia. Infatti in passato è stato oggetto di diverse indagini per associazione mafiosa, violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a cui era sottoposto, per reati contro il patrimonio fino a quando non gli sono stati contestati i reati in materia di stupefacenti per i quali la Corte d'Appello di Catania lo aveva condannato a 7 anni e 6 mesi. Dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, l'uomo si è rivolto in Cassazione presentando un ricorso che però la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile. Divenuta definitiva la sentenza di condanna, la Procura ha emesso per il periodo residuo di pena l'ordine di carcerazione che è stata eseguita dai poliziotti del commissariato di Adrano. Dopo gli adempimenti di rito, il 48enne è stato condotto presso la casa circondariale Piazza Lanza a Catania. Operazione antidroga della polizia nel rione San Berillo a Catania. Grazie al fiuto di Ares, un cane antidroga, ha recuperato un notevole quantitativo di droga nascosta tra le crepe e fessure di abitazioni abbandonate. Sentiamo i particolari. A Catania la polizia ha scoperto un significativo quantitativo di droga nascosta tra le crepe e le fessure di vecchi edifici abbandonati nel rione San Berillo grazie al cane antidroga Ares. Durante l'operazione condotta dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza centrale sono stati trovati vari tipi di droga, tra cui marijuana, hashish e cocaina. Gli spacciatori avevano nascosto la sostanza stupefacente dei luoghi insoliti come rifiuti ammassati, intercapedine e degli uffici. In via Pistone tre rifiuti sono stati trovati 54 grammi di marijuana. In via Buda Ares ha fiutato un borsello contenente una tavoletta di hashish da 83 grammi e 19 involucri di cocaina da 3,6 grammi. In via Bonsignore sono stati trovati involucri di marijuana del peso di 52,5 e 61 grammi. L'operazione che ha coinvolto l'unità cinofila dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e una squadra del reparto mobile ha portato al sequestro di tutte le sostanze trovate. Ulteriori controlli sono stati effettuati in diverse zone, tra cui via 6 Aprile, piazza Stesicoro, via Tezzano e piazza della Repubblica, identificando 102 persone, di cui 13 con precedenti di polizia e contestando diverse infrazioni stradali. Torniamo a Paternò, nota del deputato nazionale di Fratelli d'Italia Francesco Ciancitto sull'attendamento di Ciappe Bianche. Il parlamentare chiede di far presso nell'allestimento di alloggi dignitosi per i braccianti stranieri regolari perché la prossima stagione agrumaria non è molto distante. Sentiamo. È inconcepibile che non sia stata trovata una soluzione per cancellare il campo di Ciappe Bianche, scrive così in una nota stampa il deputato nazionale paternese di Fratelli d'Italia Francesco Ciancitto a proposito dell'accampamento esistente ai margini di Paternò in cui trovano alloggi braccianti regolari e irregolari impegnati nella raccolta degli agrumi alla piana di Catania. Ma la novità di quest'anno è che la tendopoli non si è svuotata all'arrivo dell'estate quando solitamente i lavoratori, in gran parte magrebini, lasciano Paternò per seguire la raccolta dell'ortofrutta in altri luoghi della Sicilia e del resto del territorio nazionale. Da un censimento sommario sarebbero ancora 150 le persone che alloggiano tuttora a Ciappe Bianche e addirittura le tende sarebbero anche aumentate nelle ultime settimane. Da mesi chiediamo interventi a tutela dei lavoratori regolari e a tutela della sicurezza in città, scrive Ciancitto. Erano state annunciate soluzioni per cancellare la tendopoli e offrire un luogo dignitoso dove vivere e tutele sanitari e lavoratori, la sicurezza ai cittadini, preoccupati per le numerose risse registrate in città con il coinvolgimento di irregolari. A questo si aggiunge la presenza di stranieri che vivono in abitazioni fatiscenti in centro storico, senza controllo, senza rispetto delle regole. Chi affitta queste case? Quanti stranieri ci vivono? I contratti sono registrati? Domande che per il deputato meloniano oggi restano tutte senza risposta. La situazione si sta affrontando con approssimazione, prosegue Ciancitto, e la regione siciliana ha finanziato anche per quest'anno il progetto Supreme per Paternò. Come si stanno impiegando i fondi? Non ci sono controlli e questo implica la non conoscenza dell'identità delle persone presenti sul territorio cittadino. La loro condizione anche dal punto di vista sanitario e diversi casi di scabbia sono stati registrati nei mesi scorsi. Chiude l'onorevole Ciancitto. Per cambiare la situazione bisogna fare presto. Tra poche settimane e inizio ottobre, nuovi arrivi, nuovi lavoratori, sono attesi a Paternò per la campagna grumicola. Torniamo a parlare della grave crisi idrica che sta investendo il comune di Maniace. Abbiamo incontrato il sindaco Franco Parasiliti Paracello che ha lanciato un nuovo appello alle istituzioni regionali preposte ad affrontare questo problema che attanaglia l'isola e il servizio. Questa mattina a Maniace abbiamo incontrato il sindaco Franco Parasiliti Paracello. Siamo tornati a parlare di siccità, il problema dell'acqua che manca con la fornitura in alcune parti, in alcuni quartieri della cittadina etnea che ricevono l'acqua ogni otto giorni. Ne abbiamo parlato proprio con il primo cittadino che torna ad invocare le istituzioni regionali in particolare e non soltanto sentiamo il suo racconto. Il problema è questo, il problema della siccità. Come in tutta la Sicilia, Maniace sta soffrendo. Ma in modo particolare, in questi giorni ci sono alcune contrate in cui l'acqua viene fornita ogni otto giorni, la parte nord, la parte sud ogni quattro giorni. E ancora siamo nel periodo primaverile. Non sappiamo in estate cosa fare. Noi stiamo cercando di fare tutto il mezzo possibile, ricerciamo acqua, facciamo tutto quello che possiamo. Però il nostro obiettivo era quello che già avevamo dichiarato tempo fa, di realizzare un progetto e attingere all'acqua che proviene dalle sorgenti sul torrente Martello. Questa è l'unica salvezza per noi. Là ci sono circa 30-40 litri di acqua a secondo, acqua buonissima, abbiamo fatto fare le analisi, e le analisi ci dicono che può essere utilizzata per uso umano. Noi adesso stiamo cercando di fare un intervento con una condotta superficiale affinché diamo l'acqua ai cittadini, perché non ne possono più. Cioè non è più possibile. I nostri contadini, coltivatori, che prima nella zona di Samantile e Sant'Andrea si servivano dei laghetti, laghetti artificiali, che utilizzavano quell'acqua anche per uso umano, adesso i laghetti sono vuoti e questi sono totalmente senza acqua. Ci sono circa 70 famiglie che non hanno acqua per uso potabile. È una situazione gravissima, ma veramente grave. Si parla in questi giorni soldi, finanziamenti, milioni dello Stato, milioni di qua, milioni di là, però noi in sostanza non abbiamo visto niente. Qua ci vuole un intervento massiccio da parte della Regione e noi cerchiamo in questo momento di vedere come possiamo tamponare ho chiesto autobotte alla provincia regionale, alla forestale. Ci stiamo dando da fare affinché i miei cittadini a meno prendano quel po' d'acqua per lavarsi, perché c'è anche un problema di igiene. Perché se in una famiglia non arriva l'acqua dopo otto giorni, ditemi voi come si deve andare avanti. Pertanto io mi rivolgo a tutte le istituzioni, in modo particolare al signor Presidente della Regione, di vedere attentamente la situazione del Comune di Maniaci. Qua c'è anche un fatto di ordine pubblico, perché tanti cittadini hanno fatto la rimostrazione, già si parla, facciamo, scioperiamo, di qua e della hanno ragione. E io sono al loro fianco e farò il mezzo possibile affinché cerchiamo di risolvere questi problemi e dare un po' di tranquillità ai nostri concittadini. Sinaco, lei ha convocato e ha fatto un appello alle parti politiche naturalmente, ma ha convocato anche le parti tecniche, coloro i quali all'interno dei dipartimenti regionali lavorano quotidianamente su queste problematiche. Che tipo di feedback? Ci sono state delle risposte, c'è un silenzio che è la turba. Ricordiamo che comunque questo è un tema che riguarda la sua comunità, riguarda molti altri territori, sia di comuni vicini, provincia di Catania e di Messina, ma per esempio anche la Piana di Catania sta vivendo in questo momento situazioni drammatiche. Sì, io devo dire che gli uffici dove io ho chiesto si sono messi a disposizione, ieri si parlava delle autobotte, la protezione civile si è messa in moto, infatti abbiamo contattato adesso la provincia regionale, dovrebbe mandare una autobotte per... E così anche come il corpo... No, devo dire che gli uffici stanno collaborando. Questa mattina c'è una riunione, diciamo, operativa per vedere cosa fare. Io ho delle proposte sul tavolo e queste proposte li sottoporò, perché ci vogliono anche dei soldi. Il progetto, quello che prevediamo, che è circa 1.800.000 euro, quello lo portiamo avanti, però adesso se servono 70-80.000 euro per cercare di tamponare, fare questa condotta volante, prendere questa benedetta acqua che ci passa sulla testa, ci passa sulla testa e se ne scende e poi si perde lungo il simeto, questo è il problema. Bisogna intervenire, tamponare e poi il progetto, l'altro, magari con un po' di tempo, lo affrontiamo tranquillamente, senza prestare a nessuno e senza niente. Io ho interessato vari assessori, sono venuti qua, ognuno ha preso il suo impegno affinché si realizzasse quest'opera e risolvere questo problema dell'acqua nel nostro territorio. Mi auguro che in questi giorni abbiamo delle buone notizie e fare qualcosa di positivo, perché i politici, la prima cosa, debbano essere operativi, dare le risposte ai cittadini, altrimenti che politici siamo. Scatterà domenica mattina, 16 giugno a Catania, il piano di pedonalizzazione della piazza Federico II di Svevia e delle zone circostanti il Castello Ursino, piano voluto dalla giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino, e le a servizio. Piazza Federico II di Svevia e le zone circostanti il Castello Ursino a Catania diventano pedonali. Il piano di pedonalizzazione voluto dalla giunta Trantino scatterà domenica, 16 giugno, e prevede un'area pedonale permanente con interdizione H24 alle auto in piazza Federico di Svevia carreggiata a nord e ovest da via Castello Ursino a via Sant'Angelo Cussode via Castello Ursino da via Riccardo Dalentini a piazza Federico di Svevia via Alaimo via San Calogero da piazza Federico di Svevia a via Scuto e la stessa via Scuto. La zona pedonale sarà invece solo notturna dalle ore 19 alle ore 7 nei giorni feriali e permanente nei soli giorni festivi in piazza Federico di Svevia carreggiata a sud ed est in via Sant'Angelo Cussode da piazza Federico di Svevia via Plebiscito via Bufalo via Grimaldi da via Plebiscito a piazza Federico di Svevia via San Sebastiano e via De Grazia. Contestualmente nelle zone limitrofe alla nuova area pedonale del centro di Catania saranno resi disponibili circa 400 posti auto con altri 190 posti messi a disposizione dall'autorità portuale. Inoltre la MTS garantirà nelle ore serali un bus a navetta per collegare il parcheggio di via Plebiscito e la limitrofa piazza Vaccarini dotata di 79 stalli con piazza Federico II di Svevia. La storica pedonalizzazione dell'area del Castello Ursino sarà inaugurata domenica sera con una serata a concerto offerta dagli artisti catanesi I Lautari Mario Venuti Rita Botto Eleonora Bordonaro l'orchestra dell'Istituto Angelo Musco diretta da Daniele Zappalà e Gino Astorina nelle vesti di comico e presentatore. Nuove aule per il collegio San Michel in Madagascar grazie alla raccolta fondi avviata nel corso di alcuni concerti dell'orchestra giovanile Falcone Borsellino attiva a Catania e ad Adrano nata dal progetto sociale della fondazione La Città Invisibile 1000 euro il capitale investito per la realizzazione delle aule che sono state dedicate al compianto ingegnere Marinella Milazzo scopriamo questa iniziativa nel prossimo servizio 1700 ragazzi del Madagascar potranno studiare in due aule di nuova realizzazione grazie a una raccolta fondi avviata nel corso dei concerti dell'orchestra Falcone Borsellino nata dal progetto sociale della fondazione La Città Invisibile attiva a Catania ed Adrano Le aule sono state inaugurate pochi giorni fa nel collegio San Michel ad Antana Narivo in occasione dei 100 anni della scuola che consentiranno di studiare lingue straniere matematica e fisica in un paese dove oltre l'81% della popolazione vive in povertà estrema 1000 euro i fondi raccolti per la realizzazione delle due aule dedicata all'ingegnere Marinella Milazzo deceduta un anno fa membro attivo della Città Invisibile e tra i promotori della stessa orchestra la fondazione La Città Invisibile nella sua scuola di musica per la legalità offre educazione musicale gratuita a bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni rivolta a minori la fondazione crea orchestre nei quartieri disagiati e promuove l'integrazione e il riscatto sociale i poveri possono aiutare gli altri poveri si è creato così un ponte tra i ragazzi dell'orchestra Falcone Borsellino di Catania e i bambini poveri del Madagascar infatti l'orchestra Falcone Borsellino ha offerto dei concerti per una raccolta fondi che ha prodotto come risultato la costruzione di due aule per una scuola del Madagascar e hanno dato così prova e testimonianza del fatto che il bene può lievitare e che i poveri possono dare molto ad altri ancora più poveri e con questo servizio si conclude questa edizione del nostro telegiornale prima di salutarvi vi ricordo che altre notizie potete trovarle sul nostro sito www.ciactelesud.com oppure sulle nostre pagine social in particolare Facebook e Instagram o ancora sul nostro canale Telegram grazie per averci scelto e buon proseguimento su Cioctelesud